Ciao a tutti e bentornati a una nuova Aperistoria. Come ve lo immaginereste voi uno Stato comunista negli anni 30, 40, 50 del Novecento? Dai, lasciamoci un po' andare ai cliché. Uno Stato un po' grigio, con la popolazione che vive chiusa nelle città, magari in grandi casermoni costruiti tutti uguali, con gli stessi diritti ma anche ovviamente con tanti doveri. Uno Stato dove ovviamente la religione non è accettata, anzi chi è religioso deve praticare magari di nascosto. Insomma, uno Stato di questo genere. Se vi dicessi però che negli anni 30, 40 del Novecento, e anche 20 in effetti, è esistito uno Stato comunista che era l'esatto opposto? Se vi dicessi che è esistito uno Stato comunista la cui popolazione non viveva in città, ma era quasi tutta nomade e si spostava attraverso i territori? Se vi dicessi che uno Stato comunista negli anni 30 aveva addirittura una religione di Stato, cioè il buddismo, pensate un pochettino, se vi dicessi che è esistito uno Stato comunista che per 30 anni è stato alleato dell'Unione Sovietica, ma staccato e con una politica che sotto un certo punto di vista cercava di essere autonoma, voi mi credereste? Beh, quello Stato in effetti è esistito. Il suo nome, che conoscono di solito solo chi ha giocato a Herz of Iron, perché è uno Stato presente in questo videogioco, anzi, che viene utilizzato per fare delle sfide, il suo nome era Tannu Tuva. Si trovava nel cuore dell'Asia centrale, lo vedete in questo momento sulla cartina, ed era uno Stato con una storia molto, molto particolare. Era uno Stato con una storia molto, molto particolare innanzitutto per il suo popolo, i Tuvani. In effetti i Tuvani sono fortemente imparentati con i popoli della Mongolia, diciamo che probabilmente dal punto di vista genetico non ci sono tutte queste differenze, come non ci sono grosse differenze dal punto di vista delle abitudini, sono popoli che vivevano, hanno vissuto per secoli letteralmente a cavallo, spostando le greggi da una parte all'altra del paese. È un popolo che però progressivamente si è staccato dal punto di vista culturale dai Mongoli, perché ha subito delle grosse inflessioni da parte dei popoli turchi dell'Asia centrale. E questa mescolanza di mongolo e turco ha creato proprio questo popolo, i Tuvani, che per secoli hanno vissuto appunto nel cuore dell'Asia, a cavallo prima tra una Russia in espansione e la Mongolia, e poi quando la Mongolia ha perso di potere, tra la Cina e appunto la Russia. In realtà per molto tempo né ai russi né ai cinesi di questa zona importò più di tanto, di questi Tuvani che facevano il canto mongolo e provevano una lingua ancora diversa e che erano oggettivamente pochi su un territorio molto ampio importava il giusto, ma progressivamente approfittarono del ritardo nell'espansione russa attraverso la Siberia a imporsi come dominatori su questo popolo che praticava una forma di religione mista tra il buddismo e l'animismo dei mongoli, insomma, un qualcosa di particolare tipico delle steppe, ad imporsi come dominatori in questa zona furono i cinesi. Quando nel 1911 l'impero cinese crollò e ci fu la rivoluzione cinese, però i Tuvani decisero di avere una sufficienza e per non rischiare di finire nei torbidi che seguirono a questo periodo, abbiamo dedicato una pidola molto tempo fa, decisero di mettersi sotto la protezione dello Zar, divenendo un territorio associato sotto la protezione appunto della Russia. Questa situazione però non durò tantissimo, perché forse era Tannutua che portava un po' male, sei anni più tardi, nel 1917, la rivoluzione colpì anche la Russia e in questo territorio della Siberia, almeno inizialmente ricadde sotto il dominio dei controrivoluzionari, cioè delle armate bianche che cercavano di abbattere la rivoluzione bolshevica. Il risultato della guerra civile lo conoscete benissimo. Dopo un'iniziale fase di scontro e di parità tra le due fazioni che si erano spartite nel dominio dell'ex impero russo, alla fine a vincere furono proprio i bolshevichi, i comunisti, che giunsero anche in questo punto sperduto della Siberia e entrarono nel territorio abitati dai Tuvani ed imposero il proprio dominio, creando la Repubblica Popolare di Tuva. Questa situazione complessa in realtà durerà pochi mesi, perché un ex monaco buddista, che nel mentre si era fatto comunista, forse anche un po' per interesse, cioè Donduk Kular, decise di prendere la situazione in mano e di fondare ufficialmente una Repubblica Comunista distaccata dalla nascente Unione Sovietica. Repubblica Comunista, che venne appunto chiamata Repubblica Popolare di Tuva, ma che iniziò anche ad essere chiamata Tannu Tuva, che letteralmente vuol dire i Tuva della Taiga. Tannu vuol dire appunto Taiga, come dire, siamo i Tuva che vivono nella Taiga. Questo Stato Comunista era in effetti un po' diverso, come dicevamo prima, rispetto al classico Stato Comunista. Innanzitutto perché vi era grossa libertà all'interno, anche perché la sagrada maggioranza della popolazione, come dicevamo, era una popolazione nomade che era impossibile da regolamentare, reggimentare in uno Stato Comunista, come ce lo saremmo potuto immaginare. Dall'altra parte c'era anche molta libertà, libertà di pensiero, libertà anche di religione, anzi, il buddismo venne trasformato ufficialmente in una religione di Stato, permettendo così ad ognuno di praticare liberamente la propria religione. Per riuscire a ingraziarsi il governo di Mosca, Kular giunse addirittura a cambiare il nome della capitale dei Tuvani, chiamandola Kizil, che letteralmente vuol dire La Rossa. E la cosa a me inizialmente funzionò, perché nel 1926 finalmente l'Unione Sovietica decise di riconoscere quel piccolo Stato e accettarlo come un proprio Stato amico. La situazione però non durò tantissimo. Nel 1929, approfittando della notizia secondo la quale Kular stava cercando di legare il proprio Stato, staccandolo dall'Unione Sovietica, legandolo alla vicina Mongolia, che all'epoca non era ancora pienamente nella sfera di influenza sovietica, Stalin decise di intervenire a Tannutuva. Mandò dei soldati che catturarono Kular, lo imprigionarono, e morirà purtroppo in prigione, e manderà soprattutto dei politici russi a prendere il controllo della Repubblica, che negli anni successivi vide un sempre maggiore afflusso di russi, soldati, amministratori, burocrati, che da una parte elimineranno qualunque forma di libertà nello Stato, elimineranno le libertà religiose, addirittura perseguiteranno i monaci buddisti, gli sciamani animisti, insomma, chiunque servisse per le religioni che erano praticate, dall'altra parte cercheranno di imporre una stabilizzazione della popolazione, e cercano di obbligare le popolazioni nomadi a stabilirsi all'interno delle città abbandonando il loro stile di vita. Una cosa che bisogna dire non funzionò proprio benissimo se pensate che negli anni Trenta ancora l'80% della popolazione di Tannutuva era appunto nomade. Le grandi purghe ordinate da Stalin eliminarono poi definitivamente ogni residuo di governo autonomo, ma anche gli ultimi esponenti politici locali vennero eliminati e sostituiti da esponenti politici russi, tanto che la Repubblica Popolare di Tuva divenne a tutti gli effetti uno stato fantoccio. Nel 1941, quando la Germania dichiarò guerra all'Unione Sovietica, Tannutuva si affrettò a dichiarare a sua volta guerra alla Germania. E nel 1944 anche l'ultima parvenza di autonomia venne cancellata e Tannutuva divenne un oblast, parte dell'Unione Sovietica, rimanendo poi con la caduta dell'Unione Sovietica parte della Russia. Ora, nel colpassare del tempo, soprattutto negli anni 50-60, i russi, come fatto in altre zone della Siberia, cercarono di ripopolare questa zona, continuando a cercare di far stabilizzare la popolazione di Tannutuva, senza riuscirci, continuò a essere principalmente nomadica e ancora oggi così, ma anche cercando di far arrivare popolazione russa che abitasse nelle città che intanto stavano sorgendo. Anche in questo caso la cosa funzionò fino a un certo punto, perché se negli anni 60 in effetti il 40% della popolazione era diventato russo, contro un 57% di tuvani, alla fine dell'Unione Sovietica negli anni 90 la percentuale di russi era crollata solo più al 10%, con la maggior parte della popolazione che non più obbligata a risiedere lì era tornata verso l'Europa e l'88% della popolazione era tornato a essere tuvano. Alla fine dell'Unione Sovietica teoricamente Tannutuva avrebbe potuto richiedere l'indipendenza, ma nessuno in realtà lo ha mai fatto. Probabilmente alla stragrande maggioranza della sua popolazione la cosa interessa relativamente e credo che francamente oggi dovessero chiedere l'indipendenza forse Putin qualcosina da ridire potrebbe avercela e non credo che nessuno in questo momento abbia questa intenzione. Dopotutto, e questa è anche un'altra cosa curiosa, uno degli uomini più fedeli a Putin e più importanti del suo governo, cioè Sergei Shoigu, che tutti conoscete per il suo comando delle forze armate, proviene proprio da questa zona, questa è la sua origine. C'è un'ultima curiosità. A Kizil, cioè la capitale appunto ormai dell'oblast di Tuva, ci sarebbe il centro geografico dell'Asia, cioè il centro della massa continentale asiatica. La cosa però è disputata. Perché? Perché gli cinesi dicono che in realtà il centro geografico si trova all'interno della Cina e a stabilirlo sarebbe stata una commissione composta da eminenti geografi, ovviamente tutti i cinesi, che hanno detto che il centro geografico si trova in Cina. Una commissione inglese, invece, ha stabilito che il centro geografico si trova proprio a Tuva, nei territori dei Tuvani, ma non si trova nella capitale in realtà, ma si trova nella vicina cittadina di Saldam. Però i Tuvani hanno preferito metterlo nella capitale in modo che la cosa spiccasse di più. Insomma, Saldam probabilmente è il vero centro geografico dell'Asia, ma nei russi, nei Tuvani, nei cinesi dall'altra lo riconoscono. Le cose ogni tanto vanno così. Io mi fermo qua. Tannutuva era una di quelle curiosità che spesso mi avevate chiesto di raccontare, in effetti è una storia particolare, non ci sono purtroppo tante informazioni e non ci sono tante informazioni in lingue conosciute. Purtroppo magari qualcuno riuscisse a accedere a libri russi si può trovare qualche informazione in più. Ad ogni modo, io ringrazio tantissimo Simone Casi, vi consiglio ancora il suo canale YouTube Stazione Verde Audio Libri e per il resto, come sempre, brindiamo. A chi brindiamo? Beh, brindiamo agli abitanti di Tannutuva che alla fine, fine, sotto la Cina, sotto la Russia, sotto i sovietici, di nuovo sotto la Russia, imperterriti e continuano a mantenere il loro stato di vita. Sicuramente non è una vita facile, è una vita pesante, è una di quelle zone del mondo in cui l'aspettativa di vita purtroppo è molto bassa, ma chissà che non vivono meglio rispetto ad altre zone. Alla loro salute, alla vostra e a presto!